Una perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia porterà un aumento dell'instabilità sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di ferragosto, con rovesci o temporali sparsi. In Toscana a lunedì 15 agosto peggioramento con nuvolosità irregolare e possibili rovesci o temporali sparsi. Venti deboli meridionali sulle zone interne moderati di scirocco sulla costa, mari poco mossi con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, temperature minime in aumento massime in calo. Sulla nostra provincia cielo nuvoloso con possibili deboli piogge. A Lucca temperatura minima 22, massima 29 gradi. A Castelnuovo minima 20, massima 28 gradi. A Viareggio minima 22, massima 29 gradi.